Apertura Sprite in diretta. Signori, per Franco. Tato, tagliaghi cecca a Sprite, Tato. Per Franco. Per Franco. Allora, Franco, lasci. Apertura in diretta, lasci. A nome di Franco. Franco, alla tua salute, Franco. Ok. E alla salute di tutti, Franco. E alla salute di Giuse. Lei è scavola, Giuse. Buona, buona stava. Ti prendo il mio altro bicchiere, Franco. Cento anni di salute a te, Franco. E noi pure, Franco. Ecco, Franco. Brindiamo, brindiamo, brindiamo. Allora, domani è aperto e siete? Sì, domani siamo aperti. Fino a che ora? Fino a che ora? Fino a due di notte, no? Va bene, ci vediamo. Ciao, grazie. Una buona serata e grazie. Ciao. Arrivederci. Locale aperto, nuovo. Un saluto da Palermo.